ricordiamo il motivo per cui siamo qua è la festa del caffè marcella terzo anniversario ingresso creativo quindi preghiamo a tutte le persone che sono fuori di entrare qui perché si parte con la beat box un po' Grazie a tutti. 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 E' formidabile, merita ancora un applauso, dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti.